Scegliere la sorpresa più lieta dell'attuale stagione rossonera non è compito difficile. Francesco Corapi è il giocatore rivelazione della nocerina, elemento arrivato in punta di piedi. Corapi l'estate scorsa non sembrava adatto al progetto che mirava rientro dalla porta di servizio in Serie B. Cadetteria mai arrivata, cadetteria che Corapi, visto l'impegno profuso in questi mesi, meriterebbe a piene mani. Ottime giocate, corsa per di fiato, Corapi ha dimostrato di poterci stare come in questa nocerina. E' convinto, come tutto l'ambiente, che la squadra di Auteri sia ancora in corsa per qualcosa in più rispetto al posto playoff, mentre sotto l'aspetto personale Corapi non sembra essere più di tanto preoccupato del caso fallimento Catanzaro, suo ex compagine, che lo vede tuttora coinvolto. Fisicamente mi sento bene, magari anche la squadra sta bene, quindi nel secondo tempo magari le altre squadre calano e noi riusciamo a venire fuori e di conseguenza vengo fuori anch'io. Però penso sia soprattutto una questione fisica, perché stiamo a livello fisico e soprattutto adesso a livello mentale stiamo bene. Loro stanno facendo, secondo me, una guerra più che legale, una guerra a livello mediatico. Tentano magari di impaurirci su qualche fronte, però per quanto mi riguarda non ci stanno riuscendo. Io sono con la coscienza a posto e parleranno i miei legali per quanto riguarda questa situazione. C'è l'udienza il 7 febbraio, ma stiamo valutando tutte le ipotesi e sono tranquillissimo.